se li dai vai su certo se vuoi ti filmo anche dalle parti sotto eccomi sono pronto vai vai giovanni si è mi fa paura quell'uomo lì il coraggio ce l'ha se ti metti qua in due la prova ma che fai a riscaldamento ma sai cosa a provare a iniziare a prendere spampi da chi arriva saluti 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 Sì, è morto, oh! Sì, è morto! Come vai? Ho tagliato il toro? No! Oh, che figlia di troppino! Un po' che ci deve più! Ehi, dai! Brava! Ehi, trocca la moto!